Sono 355 nuovi casi di Covid in Abruzzo, il 7% dei 5.080 tamponi molecolari processati. Nelle ultime ore eseguiti anche 3.630 test antigenici, il più piccolo tra i contagiati a 4 mesi, il più anziano 92 anni. L'incremento più consistente si registra nel Chietino con 160 nuovi casi, a seguire il Pescarese con 84 casi, l'Aquilano con 55 casi e il Teramano con 51 casi. Qui, a causa dell'aumento dei ricoveri, l'Asl di Teramo ha deciso di limitare le ospedalizzazioni per una settimana nei quattro nosocomi della provincia. Potranno essere ricoverati solo i casi urgenti ed eseguiti solo gli interventi salvavita e su patologie oncologiche, pur garantendo, fanno sapere dall'azienda sanitaria, l'attività ambulatoriale. Oggi in Abruzzo comunicati ulteriori 9 decessi, che portano il bilancio delle vittime a 1.698. 354 sono invece guariti delle ultime ore. Sono 12.723 gli attualmente positivi nella nostra regione, 8 in meno rispetto a ieri. Di questi, 611 sono ricoverati in area medica, meno 4 rispetto a ieri, 77, 3 in più rispetto a ieri, in terapia intensiva. Mentre gli altri 12.035, meno 8 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.